Il mese di dicembre inaugura nuovi programmi di Rossini TV. Ad aprire il sipario saranno le Sinfonie di Maestri, nuovo format di approfondimento musicale dedicato agli artisti e ai concerti dell'Orchestra Sinfonica Rossini in occasione del trentennale della prestigiosa istituzione culturale pesarese sostenuta da Xanitalia. Attraverso la conduzione di Emanuela Rossi scopriremo il ricco calendario di appuntamenti concertistici, conosceremo i maestri professori di rilievo internazionale che caratterizzano l'Orchestra Sinfonica e apprezzeremo virtuosismi musicali direttamente dagli studi di Rossini TV. Le puntate andranno in onda in prossimità di concerti. Si comincia martedì 5 dicembre alle 20.10 quando conosceremo il maestro di corno Enrico Barchetta e il direttore per la formazione Norris Borgoggelli. Il tutto a pochi giorni dal concerto di Natale, l'abbraccio della musica, con musiche di Tchaikovsky e canti tradizionali natalizi in programma al Teatro Rorsini sabato 9 dicembre alle 21.00. Una performance che sarà diretta da Juan Miranda con il coro Associazione Amadè e il gruppo Danza Oggi a coreografare un concerto a sostegno del progetto di Caritas Diocesana Abbraccia un bambino.